Perugia 18 dicembre. La studentessa Marta Benda, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica dell'Università degli Studi di Perugia, polo didattico di Terni, è la vincitrice della borsa di studio Daniel Taylor. Il premio è stato istituito dall'Adisu, in ricordo dello studente Daniel Taylor, deceduto il 24 luglio 2009 a seguito di un incidente stradale. La borsa di studio di 2.000 euro proviene da un fondo raccolto dalla famiglia, gli amici, parenti ed istituzioni, ed è destinata ad uno studente, frequentante lo stesso corso di laurea, frequentato da Daniel Taylor, meritevole e di limitate condizioni economiche. Il premio si inserisce all'interno delle numerose iniziative che gli amici di Daniel stanno portando avanti, costantemente, perché il loro amico possa rivivere attraverso i progetti che sposano quelli che erano i suoi ideali e le sue passioni, dallo snowboard, dal basket, dalla fotografia, alla pittura, fino al cinema. Un sito a lui dedicato, www.danieltaylor.it, raccoglie ogni iniziativa e ogni idea che possa servire a tenere alto il nome di una persona unica come Daniel. Noi di Radiofonica rendiamo onore al nome di questo ragazzo brillante e attivo con questo servizio, realizzato durante la conferenza stampa, nella quale sono intervenute personalità eminenti dell'Agenzia per il diritto allo studio, dell'Università, i genitori e gli amici di Daniel.